Ciao ragazzi, sono sempre io il vostro Pilloc e niente, volevo fare due chiacchiere così improvvisate con voi perché insomma, non so se sapete, ieri è stato insomma un po' uno shock per tanti tanti appassionati del motociclismo e infatti ieri notte non riuscivo a prendere sonno e nemmeno la bimba vabbè, quello è un po' così e allora alle 3 di notte mi sono alzato e ho voluto scrivere un pensiero che sapevo che se avessi aspettato fino alla mattina successiva sarebbe volato via sapete, la creatività non ha orari ieri, domenica 14 novembre 2021 è stata l'ultima gara di Valentino Rossi io ero a pranzo dei suoceri, sento in lontananza che stava per finire la moto 2 stavo lì che mangiavo ma c'era la tv accesa non finisco nemmeno di mangiare e mi butto sul divano inizia l'introduzione di Guido Meda per l'ultima gara di Valentino e io non sono riuscito a trattenere le lacrime, non so voi ma niente, immaginatevi insomma la scena io che guardo la tv e piango, come un bambino veramente con la mia compagna, la mia bimba e i suoceri che mi guardavano perplessi allora mi sono fatto un po' di domande mentre piangevo mi chiedevo ma cosa cazzo piango, non sono nemmeno così tifoso di Rossi pur essendo appassionato di MotoGP la guardo a mozzi che bocconi quando posso sono andato solo un paio di volte a vederla dal vivo insomma non ho nemmeno una maglietta con numero 46 eppure non riuscivo a smettere di piangere mentre Meda ripercorreva tutte le tappe della carriera di Rossi io ripercorrevo tutta la mia infanzia tutti quei momenti da prima in famiglia e poi con gli amici insomma radunati un po' qua e là, in qualche salotto di qualche casa tutti lì in piedi sul divano quando il dottore ci regalava emozioni forti non sono uno che ricorda nomi, date, piste eccetera eccetera sapete il mio alzheimer giovanile non me lo permette però una cosa la so sono cresciuto guardando le sue gare sognando un giorno di essere come lui e anche se non sono uno di quelli che lo andavo a vedere tifare vestito di giallo l'ho sempre stimato non solo perché è un grande campione ma per la sua personalità ieri, mentre tutti piangevano per il suo ritiro lui era lì che rideva dicendo che smettere è solo una scusa per fare casino e che casino tutto il mondo ieri si è unito alla festa di Valentino Rossi sì, perché lui voleva che fosse una festa tutti i team, tutti i piloti, ex piloti, artisti, attori, atleti tutti erano lì per quel ragazzo divenuto uomo che non ha mai perso quella scintilla dentro e allora ho capito perché piangevo perché Valentino è l'amicizia che si crea nel paddock è le gag, è le risate, è il piacere di vivere il motociclismo che tu faccia il moto estate o che tu faccia il mondiale è la serenità, la spensieratezza, la libertà che solo le moto ci danno a noi veri appassionati e allora ho capito che piangevo di gioia e che sono proprio le persone che hanno il potere di emozionare così spero un giorno di ritirarmi dalle corse con il suo stesso sorriso e che quel giorno sia un gran giorno di festa per tutti quelli che mi hanno seguito nel mio bellissimo sogno e ora scusate ma vado a togliermi un sasso del Mugello dall'occhio grazie a tutti grazie a tutti